Restate a Fiumicino è l'indicazione che abbiamo dato in questa nostra iniziativa. Restate in vacanza perché Fiumicino è una città sicura, protetta, cardioprotetta. Quindi a Maccarese, Vasso Scuro, Focene ci saranno delle postazioni sanitarie e di primo intervento presso le nostre spiagge. Quindi in collaborazione con l'Asner M3 siamo portati avanti questo servizio che è un servizio importante. Ci saranno medici, infermieri e la Croce Rossa italiana a presidiare le nostre spiagge. Dall'altra parte i nostri bagnini che salveranno la vita in mare e quegli altri se ci sarà bisogno salveranno la vita fuori dal mare.